Se noi accettiamo l'idea che comandino soltanto gli iniziati massonici che gestiscono le banche, abbiamo accettato un mondo che è quello in cui, poi con la rivoluzione americana, poi con la rivoluzione francese, poi con la rivoluzione russa, si è affermato in modo definitivo. Cioè noi non dobbiamo stupirci che comandi Draghi, che tra l'altro è un commesso di banca, ma che comandino quelli che già dopo la rivoluzione inglese, ai primi del Settecento, Axel Rothschild riunì i suoi per dire qual era il meccanismo attraverso il quale, dopo la fine del commercio dei diamanti e degli olandesi, l'emissione del denaro avrebbe sostituito gli stati. Se non si capisce questo non si capisce niente. Quindi che grazia di fanfelù che stiamo parlando, parlando di democrazia? Cioè è chiaro che i voti non contano i voti, ma contano chi conta i voti. Ma anche quando questo meccanismo è stato sovvertito, questa è una frase di Stalin, lo stesso Stalin era figlio di questo meccanismo, perché lo stesso Lenin venne intronato lì dai Rothschild. Cioè se non si capisce questo, purtroppo la gente non studia la storia, non studia la storia del potere. E quindi parla di cose che non esistono. Perché Lincoln venne ucciso? Venne ucciso perché voleva stampare moneta fatta con la banca nazionale e non a prestito. perché voleva porre fine a questo signoraggio bancario che ci governa tutt'ora. Quindi non conta chi vota, chi vota, chi vota. Tanto voglio dire adesso poi con Dominion e quindi col voto l'abbiamo visto con Biden e Trump. Inseguiamo una fanfeluca. Il potere è il denaro. Quindi se il potere del denaro ha deciso che in un laboratorio franco-americano in Cina si deve fare un falso virus per realizzare una serie di cose, tra cui l'abbattimento di Trump, che è stata la conseguenza diretta anche di questa fanfeluca del coronavirus, è chiaro che è irresistibile questo potere. Quindi alla fine, quando una persona un po' ragiona, viene anche un po' a noia a continuare a fare questo. È bene parlare perché la gente un po' ci ragioni, eccetera. Ma conta chi stampa e chi muove il denaro. Tutto il resto è aria fritta. L'avete visto con Macron in Francia, dove probabilmente è stato fatto un colossale broglio elettorale come quello fatto in America. E quello, finché è un proconsule dei Rothschild, continuerà a fare presidente, finché non decideranno che deve farlo un altro. Rileggetevi Giuseppe De Mestre e capirete che queste cose, alle menti illuminate, erano già note all'inizio del Settecento. Quindi il risorgimento italiano è stato fatto, è stato governato dalla Massione degli Inglesi, Cavour è stato l'agente, poi è stato eliminato, Garibaldi è stato mandato a porre fin a re del Sicilio, che tra l'altro aveva delle riserve aure e argente enorme che gli sono state tolte perché voleva fare l'alleanza con gli Zare, guarda caso. E quindi c'è una retrostoria che se non la si studia, ma non è complottismo, i complottisti sono quelli che non permettono che si studi cose che sono nei documenti ufficiali e che sono ovvie. Quindi io vorrei occuparmi un po' di filosofia della storia oramai, perché tutto il resto, devo dire, non mi interessa più. E sono anche triste nel vedere che la gente continua ad affacendarsi su chi vuole. Avete visto la Meloni, per esempio? La Meloni è entrata in Aspen, andrà lì per fare la politica di Aspen, fine. Che cosa deve fare, d'altra parte? Infatti c'è già lì Tremonti, quelli messi dentro una di quelle cordate, non sono più i Bilderberg, ma sono gli Aspen, però le élite sono sempre le stesse. Ma d'altra parte, scusate, quando mai non hanno governato le élite? Non governavano le élite ad Atene, non governavano le élite a Roma, non governavano le élite nel Sacro Romano Impero o a Bisanzio, non governavano le élite nelle Signorie del Rinascimento, e quindi ancora ci stupiamo. Però quello che oggi prende le cose difficili è che questa cognizione, purtroppo, è arrivata anche a dei pidocchi come noi. Sì, Alessandro... Queste cose una volta venivano rese note nei circoli iniziatici, nelle logge, nel rito scozzese antico accettato, il grado 33. Adesso, siccome purtroppo sono arrivati anche a dei pidocchi come noi, cioè questa cosa non modifica di nulla gli equilibri, però rende un po' frustrati quelli che sanno queste cose, tanto non le possono divulgare. E quindi il povero Assange si attarda a descrivere la coda della lucertola, che può rimanere in mano chiunque, cioè che la CIA fa la CIA, che l'FBI fa l'FBI, che le MAIFAPS e le MAIFAPS e le MAIFAPS e le MAIFAPS, che il Mossad fa il Mossad, ma loro fanno il loro mestiere. Qui sono gli agenti di quel potere, che cazzo dovrebbero fare, se non servire i loro padroni? Cioè, ma non capisco, mi sembra logico, no? Alessandro ci riporta un po' sulla terra e dice, ma guarda la democrazia, ma quale democrazia? Qui o c'è i soldi... Di che sono i soldi che determinano chi vince l'azienda. Cioè, la democrazia dipende dai soldi, tant'è vero che cosa possiamo dire e cosa non possiamo dire, non è che lo stabiliamo... Lo decide chi decide il denaro, è ovvio, ma è logico. Ma aspetta, aspetta Alessandro... Finché non ci sarà un nuovo principio del potere, che altro dovrebbe essere se non questo? Certo, però qualcuno adesso dice, eh ma voi state dicendo queste cose e queste sono pubblicate. Sì, certo, salvo che queste cose sono pubblicate, vengono fatte oggetto di quello che oggi tecnicamente si chiama shadow banning, vengono relegate lì da una parte, messe lì... Ma sono scritte nei libri, sono scritte in libri autorevoli, non nelle farmeticazioni di un vecchio pazzo come me, capito? No, di un vecchio pazzo come Colti non me ne voglia, di due vecchi pazzi. Ma sono scritte in libri autorevoli, sono scritte in libri autorevoli, capito? Quindi di cosa stiamo parlando? Però non perdiamo tempo fingendo di stupirci. Grazie. Grazie.